Beh a tutti ragazzi sono Angel, benvenuti a questo nuovissimo video, oggi sono qui ragazzi con un contest in collaborazione con Banggood Italia. Per partecipare è veramente molto semplice, vi basterà lasciare like a questo video, like alla pagina di Facebook di Banggood Italia e like sulla mia pagina di Facebook. La mia pagina di Facebook ci sarà un posto in primo piano con la stessa immagine che vedete qui come sfondo. Dovete lasciare like e condividere quel post e nei commenti dovete taggare tre amici. Ovviamente se vogliono partecipare anche loro dovranno fare la stessa procedura. Il premio in palio sarà un action camera da Xiaomi. Il contest inizierà oggi domenica 17 e terminerà la prossima settimana quindi domenica 24. Mi raccomando di da tutti di questo contest e fate partecipare anche i vostri amici. Buona fortuna.